Buongiorno, anche oggi continuiamo con la valutazione di impatto ambientale e in particolare le fasi del procedimento. Abbiamo come primo punto la verifica dell'assoggettabilità a via, cioè lo screening. Quindi, come abbiamo già visto, determinati progetti devono essere sottoposti alla procedura di via, valutazione di impatto ambientale, solo se a seguito di una fase preliminare di verifica si riscontri che essi sono suscettibili di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. La verifica di assoggettabilità alla via deve essere condotta sulla base dei criteri descritti nell'allegato quinto, la parte seconda del decreto legislativo numero 152 del 2006. Essi sono relativi alle caratteristiche dei progetti, cioè le dimensioni, produzione di rifiuti e così via, alla loro localizzazione e alle caratteristiche del loro impatto potenziale, portata, probabilità dell'impatto ecc. La procedura di verifica dell'assoggettabilità si svolge a livello statale presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, via EVAS. Tale commissione assicura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il necessario supporto tecnico-scientifico. Il legislatore ha disposto che la verifica di assoggettabilità sia riferita al progetto preliminare che il soggetto proponente deve trasmettere all'autorità competente nei casi indicati nel capitolo precedente che abbiamo visto la volta scorsa. Della venuta a trasmissione è dato sintetico avviso a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale nel bollettino ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Entro 45 giorni dalla pubblicazione di tale avviso è consentito a chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni relativamente al progetto in esame. Nei 40 giorni successivi l'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni che sono state presentate, deve pronunciarsi sulla necessità o meno di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto che le è stato trasmesso. La fase introduttiva consiste nell'istanza e vediamo anche il contenuto necessario. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale si avvia con la presentazione all'autorità competente da parte del proponente, l'opera o l'intervento di una specifica istanza corredata da tre documenti. Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica. Prima di parlare più approfonditamente dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, occorre ricordare che il legislatore attribuisce al proponente dell'opera da soggettare a valutazione di impatto ambientale la facoltà di attivare, prima della presentazione dell'istanza, una fase di consultazione con l'autorità competente La cosiddetta procedura di scoping Questa è il fine di definire la metodologia di elaborazione dello studio di impatto ambientale nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere in esso Si tratta sostanzialmente di individuare gli aspetti del progetto che rilevano maggiormente da un punto di vista ambientale, sociale ed economico e che quindi meritano di essere presi in considerazione nello studio di impatto ambientale Il proponente provvede dunque a presentare una relazione che illustra le modalità e i contenuti che dovrebbero, a suo giudizio, caratterizzare lo studio di impatto ambientale L'autorità competente, dopo aver esaminato tale relazione, si pronuncia in merito alle condizioni sulle basi delle quali dovrà essere elaborato lo studio di impatto ambientale Eventualmente provvedendo ad indicare quali elementi da considerare anche aspetti ulteriori rispetto a quelli illustrati dal ricorrente Lo studio di impatto ambientale in particolare costituisce il documento tecnico fondamentale ai fini della successiva istruttoria che il proponente deve stilare a propria cura e a propria spese Esso deve contenere tutti i dati necessari per il compimento della valutazione di compatibilità ambientale ed in particolare l'indicazione analitica del progetto, caratteristiche, localizzazione e dimensioni la descrizione dei possibili impatti e delle eventuali misure di protezione o mitigazioni previste Lo studio deve indicare altresì le principali alternative considerate dal proponente IV incluse la cosiddetta opzione 0, cioè la non realizzazione del progetto e i motivi per i quali è stata scelta una determinata soluzione Per quanto riguarda il terzo elemento dell'istanza di valutazione ambientale esso concerne la cosiddetta sintesi non tecnica Questa deve descrivere le caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto nonché indicare i dati e le informazioni contenente nello studio di impatto ambientale con modalità tali da renderla agevolmente comprensive da parte del pubblico interesse Le misure di pubblicità del procedimento di valutazione di impatto ambientale La procedura di valutazione di impatto ambientale si caratterizza, tra le altre cose, per la garanzia di un'ampia attuazione del principio di informazione ambientale e di partecipazione del pubblico interessato dove, per pubblico interessato, si intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tale procedure Il legislatore, infatti, dispone che, una volta che sia stata presentata l'istanza di valutazione di impatto ambientale si debba provvedere alla pubblicazione di un'informativa contenente una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali nonché le indicazioni delle sedi dove possono essere consultati gli atti relativi al procedimento e dei termini entri quali è possibile presentare osservazioni In particolare, questa pubblicazione dovrà essere effettuata sia tramite il sito web dell'autorità competente sia mezzo stampa Per i progetti di competenza statale si dovrà provvedere tramite un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata Nel caso di progetti di competenza regionale, invece, la pubblicazione sarà effettuata su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale Passiamo alla fase istruttoria Come possiamo desumere, da quanto abbiamo appena detto il pubblico interessato nelle intenzioni del legislatore è destinato ad assumere un ruolo rilevante nella fase istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale In particolare, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale è consentita a chiunque vi abbia interesse di prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale per poi eventualmente presentare proprie osservazioni relative all'oggetto principale del procedimento ossia la valutazione degli effetti ambientali dell'opera o dell'intervento progettato La partecipazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale dei soggetti interessati si caratterizza come partecipazione a scopo collaborativo ed è primariamente finalizzata a consentire mediante l'apporto di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi la più corretta e completa valutazione delle ripercussioni dell'opera progettata Il legislatore ha attribuito altresì all'autorità competente la facoltà di svolgere la fase di consultazione del pubblico mediante un'inchiesta pubblica Questa è destinata a concludersi con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi dei quali si terrà conto ai fini dell'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale Laddove non abbia avuto luogo l'inchiesta pubblica l'autorità competente ha la possibilità di instaurare un contraddittorio orale tra il soggetto proponente che può peraltro in prima persona richiedere l'attivazione di tale contraddittorio e coloro che abbiano presentato pareri e osservazioni Di questo contraddittorio si dovrà redigere un verbale di cui si terrà conto ai fini della valutazione di compatibilità ambientale Altra disposizione rilevante nel quadro della fase istruttoria è quella che prevede un particolare adempimento a carico del soggetto proponente per il caso in cui la realizzazione del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale sia subordinata rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati materia ambientale Il proponente, se ricorre una tale circostanza dovrà trasmettere l'istanza di valutazione di impatto ambientale e i relativi allegati a tutte le amministrazioni competenti di materie ambientali interessate affinché l'autorità competente possa giovarci delle loro determinazioni ai fini dell'emanazione della determinazione conclusiva della procedura di valutazione di impatto ambientale Il termine entro il quale le amministrazioni interessate debbono esprimersi decorre dal giorno della presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale da parte del proponente all'autorità competente ed è di 60 giorni Decorso tale periodo di tempo senza che esse si siano pronunciate l'autorità competente può comunque procedere alla decisione finale Una volta esaurita la fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni interessate l'autorità competente provvederà ad una valutazione complessiva della documentazione presentata dal proponente e delle osservazioni, obiezioni e pareri dei soggetti interessati Veniamo alla fase conclusiva Il giudizio di compatibilità ambientale La procedura di valutazione di impatto ambientale si conclude con un provvedimento espresso che deve essere emanato entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del soggetto proponente Questa previsione risulta conforme al principio comunitario in base al quale le decisioni in materia ambientale devono essere adottate con provvedimento espresso nonché agli articoli 2,16 e 17 della legge numero 241 del 90 che sanciscono l'imprescindibilità da parte dell'autorità precedente dai pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistica territoriale e della salute dei cittadini Nel caso di inutile decorso del termine di 150 giorni è previsto l'intervento su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate del Consiglio dei Ministri Questo procede di fidare l'autorità competente a provvedere entro il termine di 20 giorni Se anche questo termine ricorre inutilmente il Consiglio dei Ministri provvede all'esercizio del potere sostitutivo Il giudizio di compatibilità ambientale deve altresì essere adeguatamente motivato La portata di questa disposizione può essere colta leggendo la stessa in combinato disposto con una serie di ulteriori disposizioni normative ovvero con il comma quinto dell'articolo 24 del decreto legislativo 152 del 2006 secondo il quale la valutazione di impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi con i commi 7 e 8 del medesimo articolo 24 i quali prevedono l'acquisizione e la valutazione ai fini del giudizio di compatibilità ambientale sia dei risultati emersi dall'eventuale inchiesta indetta dall'autorità competente che ne redige apposita relazione sia del verbale e del contraddittorio orale eventualmente instaurato tra il proponente e i soggetti che hanno presentato pareri ed osservazioni con l'articolo 3, primo comma della legge numero 241 del 90 secondo il quale la motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria è opportuno sottolineare che la motivazione assume un ruolo particolarmente rilevante in conseguenza della scelta effettuata dal legislatore di assorbire nel giudizio finale della valutazione di impatto ambientale tutte le autorizzazioni e i pareri in materia ambientale necessarie per l'approvazione del progetto unificando in unico procedimento la valutazione sull'impatto di progetto per quanto concerne invece il caso di eventuale difetto di motivazione del giudizio di compatibilità ambientale si esclude ormai pacificamente l'applicazione dell'articolo 21 della legge 241 del 90 esso è finalizzato ad escludere l'annullabilità del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione seppur non conforme al paradigma normativo ossia viziato da inosservanze procedurali o difetti formali come la carenza di motivazione laddove dall'esame complessivo della fattispecie concreta immerga l'insussistenza dei presupposti per riconoscere al ricorrente il bene della vita a cui aspira questa sanatoria automatica non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di difetto di motivazione del giudizio di compatibilità ambientale attesa la natura tecnico discrezionale del procedimento di valutazione di impatto ambientale per quanto riguarda invece l'oggetto ed il contenuto del giudizio di compatibilità ambientale occorre sottolineare che esso oltre a contenere la descrizione e valutazione degli effetti del progetto sui fattori ambientali dovrà indicare anche le condizioni alle quali si effettua la valutazione positiva condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti il procedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà altresi indicare le modalità per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti l'atto finale della valutazione di impatto ambientale deve essere comunicato all'autorità procedente per l'approvazione del progetto la decisione sulla valutazione di impatto ambientale viene pubblicata per estratto a cura del proponente nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel bollettino ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini entri quali i soggetti interessati possono presentare ricorso giuridizionale il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale invece deve essere altresì pubblicato per intero sul sito web dell'autorità competente con l'indicazione della sede dove è possibile prendere visione della documentazione acquisita nella fase istruttoria e delle valutazioni successive la delibera di valutazione di impatto ambientale resta valida per 5 anni infatti i progetti ad essa sottoposti devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale può, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, stabilire un periodo più lungo si possono altresì concedere proroghe su istanza del proponente Tuttavia, allo scadere del termine di efficacia, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata a conclusione di questo paragrafo occorre sottolineare che la valutazione di impatto ambientale quando ne sia prevista la necessità non può essere omessa pena l'annullabilità per violazione di legge del provvedimento con cui il progetto viene approvato il monitoraggio il monitoraggio costituisce parte integrante della valutazione dell'impatto ambientale e viene attivato non solo per controllare il rispetto delle prescrizioni alle quali è stato condizionato il rilascio del provvedimento positivo di compatibilità ambientale ma anche per far fronte a nuovi impatti imprevisti è come se la valutazione non finisse con l'emanazione del provvedimento conclusivo della valutazione di impatto ambientale ma venisse sottoposta a continue verifiche che aprono la possibilità di un reesame nella decisione amministrativa un esame che è finalizzato a consentire all'autorità competente di adottare le misure correttive che si rendono necessarie a seguito del mutamento delle condizioni del contesto originario alla luce del quale era stato formulato in prima battuta il giudizio di compatibilità ambientale al fine di assicurare il più proficuo svolgimento del monitoraggio il legislatore ha previsto la possibilità di avalersi per l'esplettamento di esso dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del sistema delle agenzie immobiliari per il momento abbiamo terminato ti saluto e ti auguro buona giornata ciao